ciao a tutti amici di youtube oggi vi voglio presentare questo canale che in passato ed ancora oggi è in collaborazione col sottoscritto si tratta di winner che con i suoi video vi mostra le sue capacità di elaborare delle grafiche come intro banner ed altro a vostra richiesta inoltre porta tutorial riguardante photoshop ed anche altri software di editing come premiere pro quindi vi invito a visitare il suo contenuto che specifico mi fa piacere dirlo ben curato nei minimi dettagli perché disponibilità di supporto giuste musiche ed un ottimo editing caratterizzano il canale del winner ora vi lascio ad uno dei suoi progetti realizzati per i clienti per maggiori informazioni vi rimando alla descrizione di questo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.